Acragas, Lega Pro, è tempo di calciomercato, continua il lavoro di Peppino Tirri, direttore sportivo. Vicino alla riconferma di Capuano tiene invece banco la cessione di Zybert. C'è il servizio del nostro direttore, Arturo Cantella. Capuano-Acragas, matrimonio vicino? Tutto lascia presagire di sì, ed un'altra stagione bianca-azzurra sarebbe un vero toccasana per il gigante. Ma le attenzioni bianca-azzurre sono rivolte principalmente al mercato in entrata di nuovi calciatori, che dovranno riempire alcuni ruoli importanti. A Cerno Campo tiene banco la cessione di Zybert e solo quando si avranno le dei chiare in proposito si faranno le scelte di conseguenza. Peppino Tirri non ha premura a concludo del passaggio al Catania, è anche parlato direttamente con lo stesso Zybert, che ha dato il proprio gradimento a vestire per un'altra stagione la maglia dell'Acragas. Come si può notare è in atto una sorta di braccio di ferro e c'è anche qualche altro club di serie B pronto a inserirsi nella trattativa. Il ruolo di Zybert non sarà facile da colmare, ecco perché la società sta ben valutando la situazione, che in caso di gestione con un degno sostituto poi c'è da riscontrare il reparto avanzato ed anche in questo senso sostituire di piazza transitato al Vicenza non sarà tanto facile. Al posto di Madonia chi potrebbe arrivare? Saranno tutti giovani i potenziali sostituti oppure per qualche ruolo si dovrà affidarsi all'esperienza di qualcuno, magari proveniente dall'estero. Grazie. 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 Grazie.